9 volte su 10 i serial killer sono maschi bianchi, dai 20 ai 35 anni. Questo tizio sta copiando un serial killer che è morto da almeno... 20 anni. Si aggira sul luogo del delitto, osserve i poliziotti e si sente superiore. Anziché beccarlo voi lo portate fino a me. Sono sicura che ha un piano e a quanto pare lei ne fa parte. Sigourney Weaver, Holly Hunter, Dermot Mulroney, Copycat. Omicidi in serie. Questa sera, 21 e 10, Rai Movie. Grazie a tutti.